Aggiungiamo anziani solo per l'educazione Siamo fatto la guerra e pure la rivoluzione C'emmo tanti aneddoti di quando siamo frighi Di quando mangiamo l'opo a secco con i figli Quando ci stava peggio, gli temi erano migliori C'era più dignità e non mancavano i lavori A te è tutto un macello, da cenno e io a dicembre Perciò noi altri vecchi ce l'amendiamo sempre I vecchi se la ammenda Oh mamma mia che sonno ragazzi Ma io ieri sera piuttosto Lasciami perditi porco si, ho già portato a mangiare alle 10.30 Tra una fregna nata, fatta l'1.30, ho bisogno di portarci il caffè E sui due cazzo sputa sangue le 2.30 Sì, ti rendi conto Vincere che ha detto, se siamo adegnati dei peccati Vincere, ah su madonna, peggio il diavolo Oh vabbè, dopo di salta il pallo su quel luogo Spostiamo il pozzetto di qua, no? Adesso io vado su sopra il pallo Dopo quando ti dico staccami stacchi che facciamo la giunta e la scambiamo Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè 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 è vecchia, devi stare a mettere la nuova Che ci seguisci, che fa facendo? Ogni tanto si vende gli lavori Oh 10, 20, 30 euro sulle bollette Che pagheremo di più per pagare qui ci si, porco mio ho visto che mi rompe le pomme rompele qua rompele là ora tutti i sorghi per te l'ha ritoppata loro via dopo si cammina male come la corte io di san giovanni si cammina meglio prima che la strada l'orecciata hai fatto l'asfalto con il sorgho con la parte qui non l'asfalto? è vecchio è come la mia moglie ma che tappi che devo tappare ma perchè? io ieri che siamo io e noti a me non mi serve più a fare i fiori la casa dopo tre giorni che non li dà qui ah si si che io vuoi fare più un rimedio a cisterria a te si compra delle pasticchette ma quelle ti immagina ma tu le si parate mai? no per curiosità ne so come hai una scatola ma come hai? un macello guarda un macello perchè non ha funzionato? eh ha funzionato ha funzionato solo che la soffigliata prima di cena alla mattina alle 8 ancora gli avevo i reni per casa perchè ti rimani tu? rito sai quando ti rimani tirata la cordicella del motocoltivatore che non gliela fai staccare la fresa si si e moglie da questo? moglie ma le prime due la rete poi dopo fino alla mattina ti rimani fatica da solo che devo fare? questa è la roba che ti manda a parte di là eh ma almeno siamo ricontenti ah si si ah ma adesso ci servono questi giovani che ancora parlano eh no questi pasticchi o no questo governo che si trova a te faceva per forza cazzo un rito ah non parliamo di politica se non mi danno ma questi quando gli avevamo per attaccare i fili eh ma parli qua no almeno per la giornata di oggi ci stavo guadagnando quello che gli stavano ah puricino ma hai piampato la salata qua? ma vanni ho ancora i fili hai un consorzio oh stacca che faccio la giunta capito? capito? boh che cazzo hai sentito? oh che cazzo? digli che stacchessi eh digli che stacca guardaccio attacca aaaa aaaaa marco marco che c'è fatto? ah come ha fatto a cascare? boh e sei sancchio Iemo va, Iemo, Iemo, io l'ho sentito sempre, le cose per farle fatte, ogni fascia è da soli. Grazie a tutti.